Le spieghiamo una profonda soddisfazione per la vittoria dei democratici e la riconferma del Presidente Obama che ha mantenuto rapporti importanti con l'Europa, con il nostro Paese, che è garanzia di crescita, di sviluppo, di equilibrio e di pace nel sistema dei rapporti internazionali e che rappresenta anche un passo in avanti degli Stati Uniti e non un rischio di ricadere in una politica di arroccamento e di paura come spesso la destra ha fatto con i repubblicani in America. Io credo che il rapporto tra Obama e il Presidente Monti di questi mesi abbia consentito all'Italia di potenziare il proprio ruolo e la propria credibilità internazionale. Noi punteremo in un rapporto che consenta all'Europa e alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa come punto di riferimento di un'alleanza seria con gli Stati Uniti e non come un elemento di preoccupazione o di insidia per gli americani che invece debbano trovare nell'Europa e possono trovare nell'Europa, come abbiamo sempre detto, un alleato stabile e che partecipa alla globalizzazione sapendo una crescita, equità e diritti.